Una condotta idrica rotta di una palazzina all'origine dei crolli del costone in via Ebagiara, ai piedi del ponte Don Sturzo, i lavori degli operai incaricati da Abba Noa per intervenire avrebbero causato la condizione pericolante di quel costone alto, quasi quanto 5 piani di un palazzo. Stando infatti ai racconti dei residenti nel corso di quei lavori, gli operai avrebbero sradicato molta della vegetazione sul costone che faceva da naturale contenimento. La segnalazione è arrivata proprio dai residenti della zona che preoccupati dai grossi massi di calcare caduti e da quelli in bilico sul costone e pronti a crollare, magari a seguito dei primi temporali estivi che colpirebbero la strada e la palazzina accanto, hanno chiamato il comando di via Carlo Felice. Un'ipotesi quella di un crollo da scongiurare a tutti i costi, per questo i vigili della polizia locale insieme agli operai del comune, dopo un sopralluogo, hanno immediatamente chiuso e transennato la zona. Il comune ha provveduto all'intimare ad Abanoa il ripristino dell'area e la rimozione dei detriti già caduti sulla strada.